La regione Campania è contraria al rilassamento, all'apertura della mobilità, alle manfrine tra comuni grandi e piccoli del che fare a Natale, Vigili e Capodanno. Noi dobbiamo sapere che in queste due settimane ci giochiamo il futuro del paese, se ci sarà un'ecatombia a gennaio oppure no. Quest'anno Natale e Capodanno devono essere giorni di raccoglimento familiare e religioso, ma non delle feste normali. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto al consueto appuntamento in streaming del venerdì sul suo profilo Facebook. Siamo in guerra in Calza De Luca, gennaio sarà decisivo perché avremo il picco influenzale e se abbiamo una ripresa forte del contagio e l'esplosione di influenza normale non avremo la possibilità di fare le vaccinazioni anti-covid e a catena avremo un prolungamento del problema del contagio per mesi. Abbiamo visto a Torino e Milano cosa è successo appena usciti dalla zona rossa, una valanga di persone nella movida. Possiamo anche impiccarci con le nostre mani, ma noi resisteremo oggi alle spinte demagogiche. I dati di oggi, conclude De Luca, indicano che restiamo la regione con il tasso più basso d'Italia per i decessi covid. Nelle terapie intensive ci sono 140 ricoverati, nessun nuovo ricovero, siamo a metà dei ricoveri del Veneto, meno della metà del Piemonte, un terzo della Lombardia. Abbiamo ospitato in un contesto di difficoltà, tutti i pazienti in ospedale non li abbiamo messi con i materassini a terra. Ormai il 90% di chi fa il tampone riceve il risultato in 24 ore con sms. Siamo la prima regione nel tempo di attesa tra sintomi e diagnosi in 24 ore.